I cosiddetti card server che di fatto gestivano la truffa canalizzavano i codici di accesso in un apposito server e successivamente criptandoli riuscivano a diffonderli attraverso una connessione ad internet ai numerosi utenti finali che riuscivano ad attivare la visione in chiaro grazie all'utilizzo di decoder dedicati. I ricevitori dovevano essere appositamente configurati mediante l'installazione di un software scaricabile dal sito internet pirata mantenendo una continua connessione con linea DSL al provider principale. Il software consentiva l'aggiornamento continuo dei codici di accesso criptati consentendo così la visione in chiaro dei canali Sky. L'attività investigativa dei finanzieri della tenenza di Vallo della Lucania coordinati dal comando provinciale di Salerno ha permesso di scoprire l'intera rete e ha individuato i quattro responsabili principali operanti in diverse zone della Campania e della Basilicata che garantivano il continuo aggiornamento dei codici criptati permettendo la visione dei canali Sky ai tutti gli utenti collegati. Le 26 persone denunciate ora dovranno rispondere del reato di truffa. Nel corso dei controlli è stato sequestrato anche il materiale informatico, un personal computer e un decoder utilizzati per la truffa che hanno permesso di bloccare gli ulteriori 50 titolari di account per ricevere i codici criptati.